GEDEI E' più che cosa? Buon pollo, ho felice. E' più è quello che ci sono lì e prendono il tuo. Io metto l'intas, calma un'onano da un plattere intelligenti postcom. E' da' nu'a... l'inferno. Uriet, l'isci d'a' l'isci d'a' l'atari. U' intomini s'd'a' portus badiat l'iteinu' l'isci d'a' ma'andu' s'qalii u'i behni c'begnit a' s'inqalii k'o' a' t'afa. Nessa, l'isci d'a'. M'indididididid s'ayhni b'ismi yina' Pa'knaw mekkde'kobon zon un'affariite' informali' kifu qol' infernali', c'hajna za'i. Nela, id ottom pedinawne' l-eternita' Babisa'l'feandait'l'komènd? Isayahattu hafnaon hafnazenawg mufrimkir Usesirut ghafnecuo šinhind dictat. ma la, bish inzumna il karogni, ishti in al-sampon, fitur bizarre, jakemmi il protaj, ma la, tamarà, ma la, ma la, ma la, ma chanip diere, mh, l'abbalin, jakegogton, jakegistavtogod vora l'abbalin, l'abbalin, jakegistavtogod vora l'abbalin, grazie, ehm, la, burte, mh, i Member Main Juliet, combob Software Maturi, thank you, a,аровimme komen, poi vuoi dic suppose, tr Neg lira Rubskogon, je tv che sono sicuno, comu deppel 30 g di p achtergrima, thank you, e, pions, ehm, l'abbie, mmh, come moderni, so i stassi jacca joccom rigi rawi fin nufs thank you minimis, minimis eh il nationalisti fegadi jacca joccom uoglu rinni lakullabdek thank you ullakuris jacquistalko uoglu quara nationalisti il niz gajinni faal il niz gajinni faal aah di musmpost it may ph we are fleet san peter innumabes pahad Ma edilna fax, dikne che dicni da bene, stupendo, nel telefogli? Atri il domani sono proprio l'amica, e ma di dirlo in questo fondo, perché va bene non puoi in questo campo? Sampietro oggi si è stato fatto, ed è stato fatto, il partnerese sottopoli? Cosa è sido sottopoli? Si arriva un po' a tutte le fiche di collo? Ma la, bella, bella... E' un esperto, .. .. .. .. .. nel! auneke guglieusu si sta a fora più riche e per tutto a questa un agricolo ma ecco un suo a tutti sì a bene Sì sì della l' percentino non è a una riscita quindi tutti prath vorrei vabbè chi sa è tutto il suo interesse durante un po' di essere qui. Ma ora, è un po' di più. Ma è un po' di qui, è un po' di qui, e il fatto di il nostro canale, il nostro canale di Berliano Stammo. Il suo canale. Il nostro canale è i noi, il nostro canale è il nostro canale di Norman Lowell, il nostro canale, e il nostro canale. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti